Di regola siamo noi a decidere in merito ai nostri investimenti finanziari, che si tratti di immobili, titoli o conti. Noi siamo il capo di noi stessi. La situazione cambia per il primo pilastro. La previdenza statale è irremovibile. La maggior parte delle persone pensa che ciò valga anche per il secondo pilastro, ma non è così. Negli ultimi anni qualcosa si è mosso nella previdenza professionale. Ciò apre un nuovo margine di manovra. Questo è possibile grazie alla cosiddetta soluzione 1E. Le collaboratrici e i collaboratori con salari annui superiori a una volta e mezzo il limite massimo LPP beneficiano di maggiori libertà con la soluzione 1E. A partire da questo valore limite, il denaro del secondo pilastro può essere investito secondo le proprie scelte. In base alla situazione personale, le collaboratrici e i collaboratori chiave possono scegliere la strategia di investimento adeguata per i loro capitali di previdenza. Il sistema è molto flessibile. Gli assicurati presso Swiss Life sono liberi di cambiare la propria strategia gratuitamente in qualsiasi momento. E i collaboratori con un salario rientrante nell'ambito 1E che non sono disposti a correre un rischio di investimento possono optare per la protezione del capitale totale attraverso l'interessante assicurazione di risparmio di Swiss Life. Tuttavia, i piani 1E non sono vantaggiosi solo per i dipendenti. Le imprese che offrono piani di previdenza 1E si posizionano quali moderni datori di lavoro e promuovono la responsabilità personale delle collaboratrici e dei collaboratori chiave. Le imprese che allestiscono il bilancio secondo le norme di contabilità internazionali beneficiano inoltre di obblighi previdenziali ridotti a livello contabile. Il piano 1E offre la libertà di scelta. Per rimanere un datore di lavoro interessante vale la pena verificare periodicamente la soluzione previdenziale e adeguarla alle esigenze delle collaboratrici e dei collaboratori. Swiss Life è lieta di sostenervi. Swiss Life è lieta di sostenervi.